Un saluto a tutti e a tutte, sono Laura Antichi e oggi vi voglio parlare di jigsawplanet.com, un'applicazione online per realizzare dei puzzle. È un ottimo strumento nella didattica digitale integrata e pluridisciplinare. Può essere realizzato in diverse situazioni didattiche. I puzzle sono un'attività molto stimolante e hanno una funzione importante nello sviluppo cognitivo in quanto legati al riconoscimento visivo aiutano poi la concentrazione sua di un tema e la comprensione degli argomenti. Sviluppano capacità e abilità di problem solving e di pensiero strategico. Migliorano il self-control e l'autostima. Sono inclusivi perché quelli online possono essere attribuiti a tutti gli studenti con minore o maggiore difficoltà in base al numero delle tessere create. Le applicazioni online sono molteplici. Ho scelto questa per la facilità di utilizzo e di condivisione. Andiamo ora al sito jigsawplanet.com come vedete nel browser e se non siete registrati vi potete registrare oppure potete accedere attraverso facendo il login. Io sono registrata e quindi accedo. Questa è l'interfaccia della home e avete i puzzle casuali, avete i puzzle in primo piano che sono stati inseriti dagli altri utenti. In più avete la possibilità di vedere i vostri puzzle, di creare anche all'interno dei vostri puzzle degli album, ad esempio per argomenti, crea album, vedete visibilità public o privato. Ok, io ho già creato un album e avete poi i giochi salvati, avete l'esplora, gli ultimi creati, i più giocati nella settimana, i più giocati di sempre, e poi le ricerche popolari. Ma andiamo subito a vedere come si crea un puzzle online. Crea, quindi noi andiamo a scegliere il file, in scegli file e ho scelto i girasoli di Van Gogh, poteva essere qualsiasi altra immagine, come vedete, e ho la possibilità di scegliere il numero dei pezzi. Minore il numero dei pezzi, più facile sarà il puzzle e maggiore il numero dei pezzi sarà più difficile. Poi posso scegliere la forma delle tessere, mi sta bene questa, e poi l'album è quello che ho fatto, potrei anche cambiarlo e scegliere un altro, e è bene comunque mettere i tags, quindi metterò Van Gogh, almeno uno, Van Gogh, la lista sarà separata dei tags, sarà separata da spazi, e vado a creare il puzzle, lo faccio facile per fare il fretta a farlo. Ecco, questo è il puzzle, posso aiutare, ci si può aiutare con una guida fantasma, col fantasmino del puzzle da realizzare, e poi sono 24 le tessere che sono state create, e poi posso andare anche in impostazioni del gioco, quindi posso andare a scarma intero, mostra automaticamente l'immagine all'avvio, mostra automaticamente il fantasma all'avvio, mostra un contorno se il fantasma è nascosto, da qui posso anche scegliere l'opacità, come vedete, del fantasma, e la posizione del fantasma, e il colore di sfondo. Ok, ora vado a, senz'altro, creare il puzzle. Utilizzo il trascinamento per realizzare la composizione del puzzle. Una volta realizzato quindi il puzzle, la composizione vi viene restituita una congratulazione, e vi viene anche detto quanto tempo ci avete messo per farlo, e il numero dei pezzi che erano da utilizzare. Quindi vedete che, insomma, è abbastanza semplice, ed è abbastanza divertente. Poi posso giocarlo con maggior numero di testroom, e quindi in questa maniera posso attribuirlo agli studenti con diverse abilità. In condivisi posso condividere il puzzle su Facebook, su Twitter, via mail, o incorporarlo. Ecco, e posso poi anche eliminarlo, spostarlo, e così via. Come vedete, quindi, è un'attività, questa, che può essere sicuramente consigliata durante, soprattutto il lockdown, o comunque nella didattica digitale integrata. Se ora vado nei miei puzzle, ritrovo il puzzle che ho appena creato, quello su, appunto, i girasoli di Van Gogh. Per completare l'attività didattica potrei predisporre una scheda, un hyperdocs, un checklist, ad esempio un'esercitazione. Se sto facendo storia dell'arte, mi sono occupata di Vincent Van Gogh, quindi, e ho proposto questo puzzle su i girasoli, chiederò ai partecipanti di fare il puzzle all'indirizzo Calde Itali e di proporre poi delle altre informazioni aggiuntive, cioè circa informazioni su Van Gogh e i girasoli nel web, propone almeno tre link di approfondimenti, poi rifletti con il tuo gruppo, crea una presentazione collaborativa, ad esempio, in Google Drive, di Van Gogh e i girasoli, poi pubblica il lavoro, ossia inserisci il compito richiesto in Classroom, presenta i discuti, presenta il lavoro di gruppo commentandolo in un webinar dedicato. Quindi è anche ottimo completare l'attività didattica con una scheda per rinsaldare i contenuti e le capacità degli studenti. Ecco, questo è tutto. Vi saluto.